Ciao a tutti sono Trennati, benvenuti su un altro video, oggi parliamo di Berlus Tabani per chi non conosce Berlus Tabani è il vincitore di Romania Pro dove ha vinto Brett Winkley per qualificarsi per Mistà Olimpia voi mi state chiedendo se lui va a Mistà Olimpia perché lo sappiamo che lui ha questo problema di visto tanti stanno dicendo sui social che non parteciperà su Mistà Olimpia però io non volevo parlare di questo quindi prima di avere un po' di informazione quindi sono andato su pagina di suo coach che è Milos non ho visto niente però ho visto che ha fatto un podcast di Vicente che lui ha detto è vero che lui sta avendo problemi con il visto però non ho detto che lui non farà Mistà Olimpia quindi probabilmente lui può avere suo visto prima di Mistà Olimpia se lui riesce ad avere suo visto prima di Mistà Olimpia di sicuro fa Mistà Olimpia e ancora su forse non è che lui non fa Mistà Olimpia solo essendo che è uno straniero per entrare in America è un po' difficile per lui quindi lui deve chiedere visto anche ci sono tanti controlli prima di avere questo visto per entrare in America quindi questa è la notizia per oggi lui non è detto che non fa Mistà Olimpia ci vediamo al prossimo video